Pochi minuti, forse un minuto, massimo un minuto e mezzo per dirvi Ambo della Befana, o meglio, Ambo dell'Epifania, ruota unica, due numeri, Ambo e Ambetto. Ricordatevi che se io cerco di darvi sempre qualcosa in più è perché voglio portarvi alla vincita. Rilevate un Ambo che ancora non ho postato, ma questo è il video di Instagram e YouTube e fra poco lo metterò anche nel mio blog Mimmo Nazionale. Allora ragazzi, ruota sarda, quanti sardi mi seguono, quanti, una marea, Uccia, ciao Uccia se mi segui, se mi vedi, ciao dalla Sardegna, Efisio Meloni, anche lui un mio ex inquilino del blog che poi abbiamo discusso, ma chi se ne frega sono cose, sono stronzate di quello che abbiamo discusso io e Efisio Meloni e poi tante tante altre persone, Katie, ciao Katie come stai dalla Sardegna, Giovanna dalla Sardegna, Lucia, potrei elencarne ancora tanti ragazzi, vi saluto tutti dalla Sardegna, ma parlando della Sardegna l'ambo in questione è Cagliari, due numeri, Ambo e Ambetto è Ambo dell'Epifania, Cagliari 71 e 83, ripeto Cagliari 71 e 83, Ambo e Ambetto. Mi raccomando ragazzi, quando io vi do qualcosa in più, poi la Lotto Italia ci mette lo zampino, va bene, ma è perché voglio portarvi alla vincita. Chi ha smesso di giocare che giochi almeno questo Ambo, per Ambo e Ambetto, ruota unica, Cagliari 71 e 83. Bacio!